Cara Nunzia, io ho ballato, ho fatto la conduttrice, ho fatto di tutto nella mia vita, una cosa non la so proprio fare, cantare. Ma tu in tv hai mai cantato? Mai, è la prima volta nella mia vita, mi vergogno da morire! È una grande esclusiva di Bella Ma con Ciao Ciao della rappresentante di lista accompagnata dai fieri, Nunzia De Girolamo! Con le mani, con le mani, con le mani ciao ciao, con i piedi, con i piedi ciao ciao, con la testa, con il cuore, con il cuore, con le gambe, con il pippo, con gli occhi ciao! Questa è bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo, sono una rovina, sono una regina, ma 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 non so cosa salvare! Sono a pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti, che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale, ti saluto con l'amore! Con le mani, con le mani, con le mani ciao ciao, con i piedi, con i piedi, con i piedi ciao ciao, con la testa, con il petto, con il cuore ciao ciao! Con le gambe, con i piedi, con i piedi ciao, con le mani, con le mani ciao ciao, con le mani, con le mani ciao ciao, con i piedi, con i piedi ciao ciao! Con la testa, con il petto, con il cuore ciao ciao, con le gambe, con il pippo, con gli occhi ciao ciao! Ciao! Ma che brava Lucia De Girolamo! Per la prima volta ha cantato in tv a Bella Ma! Ma sei brava! Che vergogna! Brava! Anche la band, i piedi, applausi! Bravissima! Accomodati Lucia! Ma... She...